ciao a tutti oggi abbiamo un box android o per meglio dire un box dotato di android 10 ma che per funzionare necessita di carplay infatti la mia autoradio a carplay cablato e android auto wireless segnato auto ai carplay cablato puoi utilizzare questo box e tutti gli altri tipi di box cosiddetti cosiddetti ai box dotati di un sistema operativo android andiamo a vederlo sono collegato vedete con la usb c qui c'è un usb dove potete inserire una chiavetta per i video e la musica vedete la dissipazione laterale e sotto non c'è altro qui le caratteristiche che cosa che cosa abbiamo come hardware abbiamo solamente 2 gigabyte di ram e 8 gigabyte di memoria interna che sono pochi però la memoria interna la potete espandere qui con la usb che inserite e lui vedrà la musica e i video inseriti quindi non è un problema i 2 gigabyte di ram sono pochi ma adesso vi dimostrerò che in realtà lui funziona in modo abbastanza scattante quindi non sono un gran un gran problema lo abbiamo visto fisicamente vi ho parlato delle sue caratteristiche vedete in questo momento grazie a lui siamo connessi con android auto wireless e funziona bene proviamo se funziona l'assistente vocale previsioni previsioni meteo domani a milano a milano domani ci sarà nebbia con una massima di 4 gradi e una minima di meno uno quindi funziona l'assistente vocale non sto a farvi vedere tutto il funzionamento di android auto che spero lo conosciate andiamo a vedere il box vero e proprio vedete uscendo andiamo nel box box che è molto semplice al di là insomma del meteo che non ce ne frega niente questo è per tornare android auto qui si torna al menu dell'automobile qui c'è youtube ma potete metterci anche anche netflix e qui poco altro perché lui è preinstallato youtube netflix non potete mettere altre app non c'è un play store non c'è un vano sim per dargli i dati con una sua sim proprietaria non c'è il gps integrato però ci sono queste due applicazioni che sono le più richieste da tutti questa per riprodurre i video e la musica inseriti nella usb e questo se volete se vi sia un attimo rallentato gli date una botta e lui azzera i suoi due gigabyte di ram in realtà la mia questo è il widget che adesso dovrebbe appare anzi no qui non appare perché siamo già nella schermata principale widget appare quando siamo dentro un'app vediamo se funziona youtube non sono connesso mi dice ok andiamo fuori andiamo nelle impostazioni vedete che abbastanza veloce a passare da una allora 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 stavano 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 qua io gli sto dando internet con una sim che è collocata qui quindi voi gliela potete dare o se la vostra auto è dotata di una sim la date con la sim dell'automobile oppure dovete fare del tethering non potete inserire una sim dentro il box questo non è possibile io gli sto dando la internet con abbiamo detto il la sim della mia automobile vediamo se funziona youtube e infatti funziona adesso siamo online e discretamente velocemente ci caricherà ci caricherà ci caricherà un video sta caricando è partita la pubblicità poi partirà anche il video vedete non è non è un fulmine di guerra ma comunque diciamo che si difende quello che deve fare lo fa vedete quindi diciamo che con un prezzo abbastanza contenuto si viene in possesso di un box che fa un po quello che vogliamo tutti cioè riprodurre netflix riprodurre youtube e fa e funziona android auto questo è un po quello che è un po quello che è quello che lui fa con un prezzo abbastanza contenuto secondo me vedete non c'è il collegamento carplay wireless quindi c'è solamente quello per android auto direi che abbiamo detto tutto e ciao ciao